a questo splendido gol. Ed eccoci all'ultima partita, Manchester United e Eindhoven 1-0. 0-0 all'andata, 0-0 dopo i tempi regolamentari. Secondo dei tempi supplementari, ecco Agnolin che concede il calcio di rigore per questo intervento. Rivediamo l'azione che non convince il giocatore olandese, ma in questa improvvisata moviola sembra che Agnolin abbia ragione perché l'intervento c'è forse, forse l'olandese comincia prima, forse comincia prima. Comunque la sua azione è sicuramente irregolare. Agnolin ha concesso il rigore, Strachan risolve. 0-0 all'andata, 0-0 dopo anche altri 90 minuti. Questo unico golletto tirato fuori su questo calcio di rigore, peraltro contestatissimo. Al secondo minuto dei tempi supplementari risolve la sfida fra Manchester United e Eindhoven. Passa dunque la squadra inglese del Manchester United, vincendo per 1-0 con il gol di Strachan.